ok ci siamo svegliati dal potere precedente abbiamo costruito una baracca con quello che avevamo ragazzi veramente poca roba cioè guardate è un scena però è momentanea quindi ce la tiriamo così come ora momentaneamente l'abbellimento della casa non è che ci serve molto più due finestre qua e là guarda già decente tanto per vedere fuori si arrivano qualche modo sospetto lì vi è un polisterra che ci potrebbe da noi alla mensuale ok bevi è come prima cosa non è normale ok andiamo a prendere l'altro legno e poi si comincia con la situazione poi avere materiali di scorta che quando si fa sempre l'esplorazione servono tanti materiali della costruzione per ricreare eventuali armi ok andiamo a prendere l'esplorazione servono tanti materiali di scorta che si fa così eh ok andiamo a prendere l'esplorazione servono tanti materiali di scorta che si fa così eh ok andiamo a prendere l'esplorazione servono tanti materiali di scorta che si fa così eh vai via vai via vai via è morto dio che paura stupido creeper perchè mi fai tutto questo danno davanti a casa poi non è tranquillo son sistemato di ora e arriva quel fottuto creeper a rompere i coglioni non ho proprio detto dovrò fare quell'idioto però vedete il motivo per cui l'ho fatto a me mi fa schifo oh ora più bello ok ora ci siamo vada ragazzi allora prendiamo mettiamo a cuocere un po' di roba che ci serve un po' di robina robuccia portato di mano questo non ci serve questo tutto tutto bene stiamo iniziando bene allora innanzitutto dovrei esplorare esplorare l'airage costante per prendere qualche alimonocciolo uh restino scheletro il sabbia fa sempre bene sempre con la spada pronta perché qualche creeper potrebbe esplodere dal nulla un po' di lana facile e ancora mucca bene bene continuo così io preferisco anche un po' di pelle eh un po' di pelle in avanti io non saprei bisogno di un'armatura spandere piccata si ops come sei no dove sono sono tre merda ora non ho attaccato un numero almeno adesso ti prego adassimi almeno oddio no sono due accidenti se non tre potremmo farmi un bel arco l'arco è tante roba l'arco quattro è il massimo il suo ultimo sono inizioso nell'italia infatti c'erano gli scheletri anzi wiii ok ok ecco voglio farci una torretta di segnalazione non so che cosa potrei vedere boh mettiamo un cazzo al po' di roba non so nemmeno qui non so non so a non so non so che cosa si 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 che cosa ha della modalità scavatori, alziamo con questo pollo e iniziamo dove sei? morto, non è più come se vuoi fare fegge, sono molto importanti iniziamo le gaie, questa costata mi pare... dove la manzo non la lascio il carbone si passiva sempre meglio manca solo il ferro e siamo a posto vedete se non mi esbollisco i materiali oddio un altra volta come volete capito le puntate non dureranno un giorno in minecraft sarebbero almeno 10 minuti di video che questo non sia giusto, 10 minuti può arrivare abbastanza se poi volete ancora di più scrivetevi nei commenti o comunque se avete qualcosa da contestare se sbaglio o secondo me qualcosa o se vi potete dare degli indizi sono aperte a tutti guardate il messaggio mi ha dato quello che volete ora vi faccio un piccolo tributo personale adesso usiamo la roba e andiamo ad abbazzare un po' di zombie se siete con me dovrei riscattare tutto almeno se dovessi esplodere vedrei che sono una scuola tutto via ma non è non è sono le bianche, ci sono le bianche Ok, andiamo a mettere così, vedete, adesso si avvicina, si vedono, non li vedo, non si possono riscodere per sempre, sono alla mia portata, faccio usare un gripper dietro, ok, ragazzi partiamo, non ce la dovrebbero vedere in questo momento qua, infatti appena ho parlato ha spunto uno scheletro, è mia prima vittima, come lo vedi, ha avuto un previo, un previo di essere avanzato, bravo, grazie, merda, dove sono portato il cibo, molto importante, ricordate, quando andate a calcio, ha sempre l'importanza di avere una bestecca dietro, una mela, una cosa che ristabilisca al cuore, altrimenti siete fottuti, sicuramente, con le bestecca. e vai, siamo rifiuti, vedi via, sommini, eccoli, guardate lo scheletro, va bene, e quelle volte è troppo anche l'arco, le scheletri, ma è veramente dura, adesso, così che sappiamo verso con loro, naturalmente, vuole che non ti possono prendere, comando un po' di esperienza questa cosa, ma offre più, basta dire, tutti, sono i raghi, ti attaccano dall'alto, senza che te lo aspetti, e fanno il loro orribile verso, quando lo vuoi troppo tardi, tutto sono addosso, mi servirà proprio il raghi, ora, per vedere, il loro bel filamento, cazzo, l'avete visto? mi sono imbitizzato benissimo con l'albero, no, a me l'ho vista, mi sono andato là, è sempre peggio qui, oddio, il coraggio qui, è più duro, la fiuma, bene, bene, attente che c'è il nostro duro qui, non so se avete notato, ma mi pare che prima io abbia preso una, come se, oh cazzo, dov'è? una freccia, mi pare che dalla 0.8 si possono prendere anche le frecce degli altri, eccolo, che pezzo, oddio, vaffanculo, c'è già il terzo che trovo in questa, anzi, quarta, che trovo, questa survival, il foglio, non c'è? wow, che cool, è che nella foresta è veramente difficile vederli, che se mi imbitizzano quelli stanzi, guarda, dov'è lo scheletro? che mi sta sbitragliando, eccolo, iniziamola, eccolo, da meno se mi uscino a casa, così se dovessi morire, sono questo, preghi, provo quello che mi sa dire, vieni, più un creeper, la situazione si fa purifici, scappa ecco, devi esplodire a fine puttana, dove sei? o cazzo è qua? fottissimo, vai, vai, stupido, fai un movimento l'interno, vai, torni a fare altro, addio ragazzi, siamo già a 13 minuti e 40, vabbè, mi se l'ho prolungato, preghi, ho dato questo attributo a voi, che mi seguite e mi sassate sempre, se ci sarà uno di voi, io sarò contento, riesco ad ammazzare questo fotografico zombie, che è qui davanti, e vi saluto, allora per ragazzi, in un'altra puntata giù del termine, spero che vi sia piaciuta, come vi ho detto, se avete da contestare qualcosa, indizi, o comunque consigli da darvi, basta che lo scrivete qui sotto nei commenti, se per caso volete scaricarvi la versione della 0.8, vi farò dare, oh bene, vi farò dare l'indirizzo, l'url, vorrei accontentarvi, naturalmente è per android, perché io ho un trovato, ho visto che non lo soffre, cazzo, sono una merda, ho finito la spada, voglio portare il culo via, vabbè, eccolo, ragazzi via, dopo lui passa davvero, sono un dio qua, muori, ok, guardate un po', vediamo se è vero, se posso prendere le fecce, no scherzavo, pensiamo se possono prendere le fecce degli altri, beh, cos'è questo qua? Oh, qua è questa storia, oddio, 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 sei bravo un po' a ristruzione, adesso vai, muori, oh, guardate due patate, non so dove le trovate, però, ma io così, se facciamoci il mio matissimo arco, che non lo sticca, purtroppo, aspettate, da 15, eccolo qua, andate, va, sono tantissimo arco, con delle frecce, ok, va bene ragazzi, se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, mi piace, vi ringraziate la visualizzazione, passato un felice anno nuovo, che tra poco, è capodanno, è capodanno, si fa un casino della madonna, va bene, via ragazzi, questo è tutto, ma non si può dormire, dunque vi saluto, ciao ciao, Ciao! 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 Ciao!